Pronti? Down town, down, downtown e... Sei rimasto troppo seduto? Si, si, si. Si blocca così. Anche a me capita, i formichi che ti capiscono. No, perché tu di... No! Lui ho protesi. Ah, c'è la protesi. La risposta corretta era quella della nostra Michela che... Allora, ragazzi, io posso capire le voci, ma che adesso Johnny è quasi magia. Ragazzi, io non ho chiesto a Michele di spostarsi. Si vede che queste parole che sto dicendo non sono roba mia, ma me le hanno scritte, no? Si, si percepisce quando non è roba mia, giusto? Io dovrei imparare a stare zitto, a parte che da domani sono licenziato, quindi... Porti un po' di sfigo. Porti un po' di sfigo. Esatto, un po' di sfiga, sì. No, ma poi sono diseducativo. La gufo a tutti. Che cosa ha lui più di me? Eh? Una roba così, eh? Miese Odransky... Mike, chiaramente ci ho provato a studiarlo. Perché lo chiedi a me? No, non te la sto chiedendo. Ci ho provato. Hai visto Mike? Alla fine è un modo per uscire. L'hai trovata, l'hai trovata. Io sono il mago della fuga. L'hai trovata. Alla fine è un modo per uscire. Grazie a tutti.